Su, da qui, sai che i telefoni non sono ammessi in classe. Uffa, questa regola fa veramente schifo. Accidenti, spero che lo schermo non si sia rotto. Oh no, lo schermo è distrutto. Mi dispiace, ma temo che dovrei comprarne un altro. Non mi rimane che chattare con lo schermo rotto. Se vuoi far sembrare rotto lo schermo, basta mettere questo sopra. Sembra reale, non è vero? Missione compiuta! Che cosa? Come ci sei riuscita? Il signor Smith ha avuto una mattinata difficile. E quando sei stanco non c'è cosa migliore che mettere qualche diapositiva. Cavolo, ho lasciato il cavo in macchina. Ragazzi, torno tra tre minuti. Tutta questa attesa farà bene agli studenti? Ok, tu prendi queste M&M's e io ti darò cinque dollari. Oh oh! Ma si è appena accesa la fotocopiatrice. Figo, non è vero? Sbrigati, fai una copia della mia faccia, vai! Oh mio Dio, è così divertente! Ma guarda la mia faccia! Ehi, il signor Smith ha lasciato il portatile. Facciamogli uno scherzo usando la fotocopiatrice. Occhio prof, che queste ragazze non sanno fare altro che mettersi nei guai. Salve, signor Smith! Ho trovato il cavo. Lo collego al PC e possiamo iniziare. Ma che strano. Perché non succede niente? È il mouse? Accidenti, ma cosa diamine gli succede? Ora basta, lo butto giù dalla finestra. Aspetta un attimo. Ma è finto? Signor Smith, sei stato vittima di uno dei loro scherzetti. Devo ammettere che era un trucco ingegnoso. Ma ora siete nei guai. Chissà se la musica fa aumentare l'appetito. Perché in questo momento ho voglia di hot dog. E sono appena fatti. Serve solo un po' di ketchup. E senape. Ecco. È una vera opera d'arte. Buonissimo. Mi stavo dimenticando. Ma guarda che hot dog. Pranzo gratis. Non dovrei. Dai, che scherzo. Ah? Thomas! Ritorna subito qua. È troppo avido. Gli piacciono gli hot dog, eh? Vedremo. Ma prima mi servono degli spiedini di legno. E ora mi serve mezzo hot dog. Perfetto. Ora passo lo spiedino nella parte superiore. e poi un altro in quella inferiore. Lo tengo fermo e verso il ketchup. Tanto ketchup. Sembra un dito, vero? Thomas ci cascherà di sicuro. È proprio quello che ci voleva. Thomas, aiuto! Thomas, aiuto! Il mio dito! Che ho? Oh! C'è sangue dappertutto! Ma che ti ridi? Ah! Smettilo! Puoi guardare, Thomas. Io sto bene. È un hot dog, vedi? Geniale però, non è vero? Prepararsi per una serata fuori può essere stressante. Sono così stanco. Che ore sono? Ehi! Non stai pensando di andare al... Bagno, vero? Signore e signori, accendete i motori! Vincerò io. Ah, per davvero? Non credo proprio. Sì, vabbè. Pronti e via! E Bella arriva per prima! Ah ah! Bella, no! Oh! Non è giusto! Mi dà così sui nervi. Si merita uno scherzo? Ma che posso fare? Le serviranno le chiavi. Ma le sarà difficile prenderle se sono sott'acqua. Riempiamolo. E per rendere le cose ancora più interessanti... Lo capovolgiamo, che dici? E lo facciamo scorrere sul tavolo. Accidenti, se sono bravo. Meglio se me ne vado. Fammi vedere se ho tutto. Ma quelle sono le mie chiavi! Ma com'è possibile? E dai! No! Mi sa che devo fare una mossa rapida. Pronta e... Gira! Il mio vestito! I miei capelli! Tutto quanto! Sembra che oggi non uscirò. E invece ucciderò Steven! Subito dopo essermi asciugata. Ah, niente batte la gioia di portare a casa un nuovo computer. E ci sta benissimo qui sulla scrivania. Wow, com'è brillante! Ci divertiremo così tanto insieme. Abbiamo una lunga giornata che ci attende. Fatti pulire. Ehi, come al solito. Ehi, signor computer. Sei piuttosto polveroso oggi. Ti ho portato qualcosa di speciale? O vuoi questo? Questo è il posto perfetto. Ehi, ti dispiace se studi un po'? No, no, sono molto impegnato, vedi? Non ci vorrà molto. Non significa no, capito, Bella? Su, adesso lasciami solo. Ecco, perfetto. Nessuno può toccare il tuo prezioso computer, eh? Beh, vedremo. Questo schermo finto lo spaventerà a morte. È stato facile. Peccato che non ci siano popcorn per lo spettacolo. E il tocco finale? Steven! Bella! Che succede? Ho avuto un piccolo incidente. Cosa? No! Perché no? Perché il mio computer? Perché ridi? Asciuga quelle lacrime, è soltanto uno screensaver. Oh, non sono mai stato così felice in tutta la vita. Adesso posso scrivere il mio articolo? Ma se lo graffi, io giuro... Sto facendo uno sbaglio enorme. Ah, gli esami sono la cosa peggiore. Non ci capisco niente. Guarda l'ana come va. Riuscirò a sbirciare da qui? Cavolo! Devo essere più subtolo. Scusa, ti spiace? E non sbirciare. Ho bisogno di un nuovo piano. E include un terzo paio di occhi. Altrimenti noto come obiettivo della fotocamera. Immagine perfetta. Mi sa che non sono stato così furbo come pensavo. L'insegnante non ci sta nemmeno guardando. Posso fare come mi pare. Qui sembra tutto ok. Dai qua. Ero certo che avrebbe funzionato. No ragazzi, non va bene. Il tempo è quasi scaduto. Forse devo andare a caso. Ma aspetta un attimo. Lana? Che c'è? Vuoi vedere qualcosa di fantastico? Eh? Guarda, mi ha trapassato la guancia. Trapassa la carne. Che cosa? Mi sa che mi sono appisolato. In realtà, ha funzionato. Niente lana, nessun problema. Non sono senti Himmati. Non sono senti Himmati così. Io ora... Non sono senti Himmati. Behance. winning loario. Passi Himmati. Autore dei sorrisi